tubo porta maschera antigas ex dotazione verma una superba riproduzione curata nei minimi dettagli comprensiva di attacco e tracolla attacco sul cinturone e tracolla da portare attraverso interamente in metallo come l'originale fornito di un'apertura elasticizzata come quella originale con la molla attenuta stagna nella realtà troviamo persino riprodotta la data 1941 e il fabbricante ovviamente è tutto riprodotto come quello dell'epoca qui ci andavano lenti di ricambio colore feldegrau viene fornito vuoto ottimo materiale ben rifinito colore opaco ecco